Perché venire al McFruit? McFruit è la grande vetrina dell'ortofrutta italiana. In fiera sono presenti tantissime aziende rappresentative della filiera, dalle sementi al vivaismo, dalle tecnologie di campo fino alla commercializzazione dei prodotti, dalle macchine di lavorazione della frutta fino al packaging e i servizi. In tre giorni un operatore può incontrare clienti o fornitori da tutto il mondo e farsi un'idea delle novità del settore. Quello che ha caratterizzato le ultime edizioni di McFruit è stata la forte crescita, soprattutto internazionale e anche McFruit 2018 non vi deluderà. Insomma, se siete un'azienda della filiera ortofrutticola, se siete innovativi, se volete crescere sul mercato internazionale, non potete non essere presenti a McFruit 2018. Noi vi aspettiamo e aspettiamo i vostri video. Noi vi aspettiamo i vostri video.